ragazzi buonasera questo qui è un video che vi caricherò su youtube sono le ore 18 in questo momento in questo momento preciso sono le 2 e meno 10 però ve lo caricherò alle ore 18 ragazzi vi volevo dire che in questa settimana non sono riuscito ad editare i video che dovrei caricarvi mentre sono in vacanza purtroppo non ce l'ho fatta perché diciamo non per il mio computer che non ce la fa ma più che altro per il tempo non è che io non voglio ragazzi ve lo dico sempre è perché non ho tempo quello è il problema non sto mai a casa quindi diciamo più o meno riesco a registrarvi video per il canale quando devono uscire quindi ragazzi vi dico soltanto che oggi è 29 luglio quindi faccio gli auguri a tutti quelli che si chiamano marta perché oggi è santa marta domani 30 luglio partirò per le vacanze e tornerò domenica 7 sarò lì sette giorni e andrò a ponza ponza è un'isola fantastica ponza magari se siete lì dal 30 al 7 se mi beccate fermatemi ci mettiamo a parlare due secondi facciamo una fotografia perché no mi fa piacere io sarò a ponza dal 30 al 7 se vi fermata mi fa piacere se ci incontriamo fa ancora piacere raga io sto a ponza dal 30 al 7 se anche voi ci siete a ponza se mi beccate non abbiate vergogna di venirmi di venirmi vicino non vi preoccupate quindi ragazzi io starò a ponza dal 30 al 7 l'ho detto già tre volte mi avete detto di togliermi in vizio però va bene sarà a ponza dal 30 al 7 quindi ragazzi non sono riuscito a registrarvi tutti i video per la settimana dal 30 al 7 allora oggi è 29 e vi sta uscendo questo video non editato perché non sarà neanche editato dato che non ho tempo domani 30 non uscirà niente domenica avete lunedì lunedì primo agosto avete un video di avete un video un video vlog un video vlog molto speciale di tantissimi spoiler non vi dico niente ragà ma sarà un vlog specialissimo l'ho già editato esportato e anche caricato uscirà il primo luglio alle ore 13 ovviamente 13 in punto sul canale il 2 agosto non ci saranno video il 3 agosto la stessa cosa il 4 agosto la stessa cosa mentre venerdì 5 ci sarà il primo episodio della serie di youtubers life youtubers life è un bellissimo gioco che ho registrato quindi sarà online il 4 agosto il 5 agosto ovvero venerdì ci ribecchiamo sul canale ragazzi aspettate un attimo ci ribecchiamo sul canale vediamo un po torno al set ci ribecchiamo sul canale martedì 9 agosto quindi dovrete fare a meno di me di tre giorni quattro giorni quindi raga ci ribecchiamo il 4 agosto sul canale i video che vedete vedete lunedì primo un bel vlog giove venerdì 5 il primo episodio della serie di youtubers life 6 7 8 riposatevi un poco diciamo rilassiamoci e poi lunedì io registro e il 9 vi carico un bel non so se un bel vlog di ritorno non so cosa caricarvi ragazzi auguro buone vacanze a chi parte perché io parto domani quindi chi parte oggi chi parte domani sera che parte stasera che parte domani chi parte la settimana prossima io auguro buone vacanze ragazzi ci vediamo il 9 agosto video il primo luglio e il 5 agosto ragazzi video il primo agosto e il 5 luglio ragazzi ci becchiamo lì a ponza se ci state bella buonasera innanzitutto aspettate che sto per il video perché non non l'ho editato appunto bella